Mai più bambini in carcere, la parte principale del progetto sperimentale promosso dalla regione toscana con il comune di Firenze che sarà capofila. Si tratta di un'azione di sistema che consentirà ad alcuni bambini, figli di madri detenute, di vivere la loro infanzia in case famiglia o case alloggio e non più in carcere. In Italia ad oggi ci sono 21 bambini sotto i 6 anni che vivono con le proprie madri detenute. In Toscana al momento non ce ne sono. La novità sarà sperimentata nella nostra regione grazie alle specifiche risorse stanziate dal Ministero della Giustizia e destinate alle regioni per i progetti di accoglienza residenziale di mamme detenute insieme ai figli. Il progetto si articolerà nel prossimo biennio e potrà riguardare tre nuclei familiari di madri con figli piccoli detenuti, uno nel 2022 e due nel 2023. Ovviamente sono previste tutta una serie di azioni tra cui formazione, monitoraggio e delle sperimentazioni iniziali con numeri piccoli. Noi poi ovviamente appena ci arriveranno le risorse dovremo fare gli avvisi per individuare le strutture, però è un progetto che vogliamo portare avanti insieme a tutte le altre azioni che già portiamo avanti e che sono in cantiere anche sulla questione delle madri detenute. Grazie.